come sto non dirmelo sto male sembro un russo in vacanza forte dei marmi ma non dimentichiamoci Tom che lui è il nostro idolo e dobbiamo fare tutto quello che ci spero a lui veramente però era lei il suo idolo mi aveva messo sul frigo con una calamita Tom il vero idolo è lui per 30 anni ha fatto quello che ha voluto è vero si è comprato la macchina in contante Tom andava al supermercato a comprarci un dixan e nessuno ha mai detto niente anche un po grazie ai covi dove poteva nascondersi come la chiamate i covi dove poteva nascondersi c'è stato il covo 1 il covo 2 stupido cos'ho detto padrino il covi ricordati Tom che per noi mafiosi esiste solo un covo sicuro quale l'italia sto male questo torna fratelli di crozza da venerdì 24 febbraio alle 21 e 25 sul 9 è in streaming su discovery plus